il shop nasce a milano nel 2006 da un'intuizione del nostro fondatore che ha intercettato una domanda latente stiamo parlando degli albori dell'e-commerce quindi ai tempi c'erano poche realtà online ancora meno e-commerce farmaceutici noi abbiamo quindi creato la prima piattaforma dedicata esclusivamente all'e-commerce della farmacia e della parafarmacia nel frattempo il mercato è cresciuto si è evoluto i nostri clienti sono cresciuti e anche di conseguenza i nostri servizi si sono ampliati e oggi possiamo dire di offrire il servizio più completo in italia anche per quanto riguarda la consulenza quest'anno presentiamo importanti novità sia dal punto di vista tecnologico che per quanto riguarda i nostri servizi di consulenza la novità più importante è l'integrazione con oltre 20 grossisti a livello nazionale che permette alla farmacia di agganciare l'assortimento del proprio grossista di fiducia andando a verificare in tempo reale la disponibilità e modificando i prezzi in maniera dinamica in funzione del ricarico che si è deciso di applicare dalla piattaforma è poi possibile ordinare in un solo clic i prodotti venduti con un evidente risparmio di tempo questo permette alla farmacia di competere online con dei player già affermati riducendo così il gap competitivo questo anche per una farmacia di modeste dimensioni lo shop si occupa sia della creazione del sito tramite una soluzione chiave in mano è una piattaforma dedicata sia della produzione dei contenuti e della consulenza strategica e marketing la soluzione e commerce miglior shop è semplice da utilizzare ma al tempo stesso potente e personalizzabile i nostri siti non sono tutti uguali per ogni nostro cliente noi costruiamo un'immagine ben definita che permette alla farmacia di differenziarsi online e affermare la propria identità di brand oltre al sito forniamo un logo un dominio abbiamo una banca dati con migliaia di schede prodotte già pronte che verranno poi agganciate all'e-commerce e offriamo la sincronizzazione col gestionale della farmacia dalla piattaforma e poi possibile gestire tutto il flusso di lavoro dalla gestione della fatturazione all'invio dei dati a sogei per la detrazione fiscale dei propri clienti all'integrazione con i corrieri più importanti a livello nazionale con i sistemi di pagamento offriamo anche importanti convenzioni grazie alle nostre partnership internazionali con player come ad esempio bartolini nexi trova prezzi e offriamo anche una moltitudine di strumenti marketing abbiamo anche creato specifici servizi volti alla consulenza e quindi al supportare il farmacista e allo stesso tempo permettergli di mantenere una struttura snella e con costi ridotti ad esempio possiamo occuparci di gestire i canali social della dell'e-commerce di seguire il sito nel posizionamento sui motori di ricerca possiamo definire budget obiettivi stilare insieme il business plan possiamo seguire alle campagne pubblicitarie e creare i contenuti promozionali della della farmacia online nostra cliente il nostro intento è quello di creare una forte sinergia tra la nostra azienda e il farmacista imprenditore per definire insieme la strada più redditizia per lui per permettergli di raggiungere gli obiettivi di business e rispettare i budget predefiniti definitivi